Ciao Astronomers! I clampi di plus system sono disponibili in tre siti diversi. Tutti per te permettono di collegare i bar di Vixen e i bar di Lossmendi. In questo tutorial vi mostrerò come collegare con tutti gli altri elementi plus. Iniziamo! Iniziamo! Puoi usare due clampi di plus dovetail, insieme a una bar di plus dovetail, e creare una platea di side-by-side per collegare l'element con due M6. Puoi usare uno dei diversi adattori per i diversi monti e collegare uno dei clampi. In questo modo potrai usare il clampo di plus invece del clampo che viene con la monta standard. Puoi collegare il clampo di plus dovetail all'elemento e lo fixare con più di M6 e lo collegare a ogni bar di Vixen o di Lossmendi e lo usare come un movimento di controllo. Se hai il clampo di plus dovetail sotto l'elemento, puoi collegare il clampo di plus dovetail all'elemento e lo fixare con più di M6. In questo modo puoi collegare il clampo di plus dovetail all'elemento e avere il clampo di plus dovetail. E se puoi collegare il clampo di 1 kg all'elemento del clampo di plus dovetail, puoi collegare a ogni bar di dovetail all'elemento dell'elemento di più di più di nuovo a per migliorare le calcire. All'estate per migliorare le calcire